Ed eccoci con l'Asus Padphone aggiornato a Jelly Bean. Avevamo testato la videocamera con Ice Cream Sandwich ed era un po' scattosa. Vediamo adesso con Jelly Bean. Possibilità sempre di fare lo zoom, ovviamente digitale. Torniamo indietro, facciamo il pan veloce. Una giornata veramente bellissima a Milano oggi, di sole pieno. Proviamo a tornare a un'esposizione normale. Ripeto video che sto girando con Asus Padphone 2, aggiornato a Jelly Bean.